All'incrocio con l'Europa ci sono regole e ci sono semafori, allora potremmo pensare cos'è un semaforo per un tedesco, è un comandamento divino, per un inglese è un accordo tra gentiluomini, per un italiano è una sfida, per un tedesco il semaforo è inviolabile perché è manazione diretta di un potere statale di cui si fida, per un inglese l'inglese rispetta le regole per rispetto dei rapporti sociali più che per ossequio verso lo Stato. L'italiano spesso cerca di passare con rosso perché considera lo Stato in contrasto con le sue priorità individuali e fino qui siamo tra lo stereotipo e l'esperienza quotidiana, siamo un po' in mezzo, ma la percezione del semaforo e delle regole è diversa anche perché è influenzata dalle diverse esperienze nazionali, il sistema del traffico e delle regole in Germania può essere talmente efficiente da tanto tempo che conviene sempre rispettare il semaforo rosso e rispettando le regole si viaggia più velocemente. Allo stesso modo i semafori italiani potrebbero ancora talmente mancare di coordinamento, essere disposti in modo talmente insensato, la polizia potrebbe essere così indaffarata a occuparsi di altro da rendere necessario più spesso passare all'ampeggiante arancione. Cioè la diversità nel percepire e vivere le regole non esclude il perseguimento di obiettivi comuni e nel caso del semaforo la sicurezza del viaggio e la diminuzione dei tempi di transito. Cioè quello che voglio dire è che non esiste una cultura politica giusta in assoluto in Europa e che debba sempre comunque prevalere sulle altre e le stesse azioni necessarie per perseguire obiettivi comuni possono cambiare allargando il contesto politico e passando da un contesto strettamente nazionale a un contesto europeo. Quando il contesto si trasforma e si allarga occorrono nuove regole comuni per perseguire gli stessi obiettivi e forse è proprio per questo che è stata l'Unione Europea 15 anni fa a decidere di passare laddove possibile dai semafori alle rotonde. questo vale per i semafori ma vale anche per le monete e quindi non è detto che l'applicazione integrale di tutte e solo, di tutte le regole e solo delle regole che vanno bene per la Germania e l'intera Europa sia un bene per la Germania e sia un bene per l'intera Europa. Certo lo sappiamo, la Germania si illude di poter giocare da solo alla Champions League e anche la Coppa del Mondo mentre noi siamo in Serie B, anzi siamo in Tripla B. Ma cos'è stato declassato? E' stato declassato l'attuale incompletezza dell'Europa con una BCE federale e l'assenza di un governo democratico. E' stato declassato e sono le parole di Standard & Poor lo squilibrio autoelesionista tra rigore assoluto e mancanza di politiche a favore della crescita e dell'occupazione. E' estratto dal rapporto dell'agenzia di rating. Cioè è stata declassata l'assenza della politica perché una moneta senza politica è sterile. Ciò non vuol dire meno stabilità, anzi la stabilità va rafforzata, è un impegno con noi stessi, per noi stessi e soprattutto per le nuove generazioni. Ma vuol dire recuperare insieme a livello europeo quella sovranità reale, quella capacità reale di fare politica che ormai abbiamo tutti perso a livello nazionale. Ecco perché sul fiscal compact vi dico purtroppo questo accordo non sapeva da fare, limitiamo i danni, sosteniamo il governo Monti in questo difficile negoziato ma manteniamo aperto, lo diceva anche in introduzione Pistelli, il processo costituente, la prospettiva politica perché il problema europeo è politico ma il problema europeo è anche ancora istituzionale e anche perché nessuna democrazia ha una pazienza infinita. E come lo sappiamo noi lo sanno benissimo anche i mercati, in una crisi come questa la velocità è un fattore determinante. Per esempio non possiamo aspettare anni per creare un'agenzia di rating europea ne parlava prima Gianni Pittella, da tutti o da molti invocata ma nei fatti ancora inesistente oppure per imporre più trasparenza e più responsabilità alle agenzie esistenti e soprattutto per abolire quelle norme che legano stati e banche centrali in modo automatico ai loro giudizi divini. Cioè è difficile anche per i cittadini capire perché dopo tanti mesi ancora non sia veramente operativo un fondo e un meccanismo salva stati che abbia le risorse necessarie a mio parere almeno mille miliardi di euro e che possa decidere in fretta e a maggioranza per dare un segnale molto chiaro ai mercati che è questo, nella zona euro non faremo fallire nessuno. Finché i mercati non si convincono di questo continueranno perché conviene, perché si guadagna soldi a scommettere contro l'euro. E Rosi ci invitavi a stare ovviamente in linea con la campagna del seramento del 2012. Allora mi presento anch'io, sono Sandro Gozzi, ho la passione di maratone e dato che la Merkel ci ha detto che la crisi finanziaria è come una maratona, beh dico che fare 42 km, ve lo assicuro, correre 42 km, 195 metri su una gamba sola è impossibile, ti viene l'infarto ed è impossibile per l'Europa quindi vincere la sfida saltellando solo sulla gamba del rigore. Se sei zoppo non vai lontano e la maratona non la finisci. Allora sleghiamo l'altra gamba, sleghiamo la gamba della crescita ma anche due gambe non bastano. Per vincere una maratona, per vincere la nostra maratona ci vuole testa e ci vuole cuore. Testa ci vuole una chiara volontà politica di completare l'Europa, quella volontà che le destre oggi non hanno. Cuore ci vuole il coraggio di scommettere nella democrazia transnazionale e nel federalismo europeo. Come scriveva Ernesto Rossi e concludo nel 1952 la federazione è l'arrosto, la confederazione è solo il fumo dell'arrosto. Allora usciamo dalla cortina di fumo di questa Europa delle destre, di questa Europa degli egoismi nazionali e battiamoci insieme a tutte le forze europeiste per gli Stati uniti d'Europa. Grazie 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 Grazie